e andalo su pelle e mone ci sono tessacchetti l'unica e le serrugola le metto là Mettete assieme a quello che dopo ci manda a metterlo. L'odore è pazzesco. Mi sento l'odore che è una vera ruggia. Quindi se vuoi degustare le lumache, venite in via Torremussa, è una cosa tipica palermitana. E' fantastico. E' fantastico. E' fantastico. Quanto sono? Un sacchetto. E' qualcosa di eccezionale. L'odore. E' qualcosa che solamente a Palermo potete gustare. Questo è lo stretch food palermitano. E' una cosa buonissima, particolare. E' buonissima. Venite qui e venite a gustare. Grazie. 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 Grazie.